Paolo io voglio sapere l'eroina del romanzo rosa sì l'eroina del romanzo rosa è soddisfabile è soddisfabile è un personaggio soddisfabile cioè che se trova l'uomo giusto si soddisfa ma bu così me la dici no dimmela bene ma vuoi sapere com'è invece l'eroina del personaggio del romanzo erotico vabbè però prima è rosa è insaziabile ma no non volevo sapere come funziona cioè il rosa funziona perché l'eroina sa che prima o poi sarà soddisfatta e l'erotico funziona perché tutti noi e anche l'eroina sa che non potrà mai essere diciamo così saziata ma comunque l'eroina del romanzo rosa è una sfigata è la persona che sta al grado più basso di tutta quanta la sua famiglia di tutta quanta il suo mondo del lavoro capito è proprio una disgraziata anche nella versione moderna tipo carrie di sex on the city oppure bridge jones tanto per dire è sempre un po' una disgraziata una che tra l'altro anche bruttina non è bella e non si cura molto e e questa povera disgraziata si va a innamorare del personaggio più straordinario che è bello e ricco a tutte le qualità e naturalmente non se la fila proprio ok ma questo personaggio così ricco così è eppure già fidanzato e in alcuni casi moderni anche già sposato diciamo comunque ampiamente sistemato con una donna che è bellissima meravigliosa buonissima fa anche beneficenza ricchissima e allora tu lettrice mentre leggi di di medesimi nella disgraziata che è lei perché anche tu sei un po' disgraziata e però sai che un giorno succederà una cosa straordinaria un grande miracolo lei farà qualcosa che non ha mai fatto prima tipo si laverà i capelli cambierà si metterà che ne so le lenti a contatto invece degli occhiali si veste improvvisamente come una donna mentre fino a quel momento si è vestita come una con la tuta dell'atac capito e lui noi ci accorgeremo improvvisamente che lui l'ha sempre amata è una cosa straordinaria non ci possiamo credere ma è così lui se ne era accorto fin dall'inizio che lei era quella straordinaria personalità quella persona buona anche molto bella cioè se tu la pettinavi e li tiravi fuori tiravi su i capelli dal viso lei diventava meravigliosa bellissima e a quel punto quell'altra quell'altra era una disgraziata una strozza cioè è una che l'ha pure tradito tante volte a lui ma non è vero che era ricca perché il padre ha giocato tutti i soldi che avevano in in borsa in speculazioni sbagliate capito e alla fine l'amore trionfa com'è invece il protagonista invece del romanzo erotico lui il protagonista del romanzo erotico è un uomo che non esiste in realtà cioè uno in genere non lavora perché altrimenti c'errebbe altre cose a cui pensare no come dice il vecchio proverbio napoletano quella cosa l'inno ha bisogno di non avere pensieri quindi lui sta tutto il tempo dedicato a lei anche se un grande manager in realtà il suo unico obiettivo nella vita è schiavizzare lei o comunque dedicarsi completamente a lei non si capisce perché io stesso non lo capisco anche perché generalmente l'uomo medio ha una visione del sesso che è fatta più o meno così cioè se dà un'occhiata con la compagna col compagno adesso nel caso di sanremo eccetera eccetera si salutano e dicono eh primo dopo intendendo primo dopo pranzo primo dopo cena primo dopo il cinema una volta che sono accordati su questo fanno sesso nel giro di pochi minuti diciamo così si liberano dell'incomodo soprattutto lui che se gira all'altra parte mangia fuma la famosa sigaretta invece il personaggio del romanzo erotico sta lì la liscia la coccola certe volte nelle versioni sadomasochistica la frusta però con delle fruste che le fa oh mio dio che terribile però rimane lì felice capito poi la pende a testa in giù come una salama da sugo questo lo dico sempre e qual è la differenza è che questo qui appunto del tutto è tutto dedicato a lei e quindi lei che come dicevo prima è insaziabile ha finalmente un uomo che si dà talmente tanto a lei che la sazia mai la sazia fino in fondo attenzione però va nella direzione del saziarla capito e lei è e lei è pronta subito appena si appena richiude gli occhi perché stanca riapre gli occhietti cosa fa appena riapre gli occhietti di nuovo ricominciano tutti e due ma pure lui cosa che è innaturale perché generalmente il masco una volta che ho ottenuto quella piccola cosa che voleva chiude i baracchi e burattini e gioca con la playstation insomma capito farmacia letteraria un podcast della scuola di scrittura genius se avete una domanda mandate un vocale 351 877 9461 radio genius se ti piace metti mi piace